Allora, grazie innanzitutto al consigliere Angelo Sturni, all'assessora Flavia Marzano a Roma Semplice, grazie a tutti voi di essere qui. Per me questo è un momento storico, ma non lo dico e probabilmente non verrà nemmeno compreso e percepito come tale, ne sono sicuro, ma lo è. Lo è per tanti punti di vista, sicuramente lo è per il Movimento 5 Stelle. Il fine ultimo del Movimento 5 Stelle non è entrare nelle istituzioni governabili, è lasciarle le istituzioni restituendo il potere al popolo. Attraverso che cosa? Gli strumenti di democrazia diretta, una cosa quasi banale se vogliamo, perché non ci inventiamo niente, sono strumenti che esistono in altre parti del mondo, ma la cui introduzione e regolamentazione cambia il futuro di questo paese, ne siamo profondamente convinti. Tra l'altro è una rivoluzione questa dolce, semplice, pacifica, perché? Perché la democrazia diretta, a differenza di come viene forse percepita anche all'esterno, non è in contropendenza, non vuole ammichilire, distruggere, sorpassare la democrazia rappresentativa, è un suo completamento, è una sua naturale evoluzione, è un suo miglioramento. Oggi il sistema come noi lo conosciamo, democratico, non rappresenta più i cittadini, non li soddisfa più, ed è naturale che sia così, perché le forme con cui funzionano le istituzioni cosiddette democratiche sono anacronistiche. Cercherò di fare un esempio semplice ma non semplicistico di questo mio pensiero. Io sono stato eletto nel 2013 in Parlamento e quando sono entrato in Parlamento ho capito subito di aver ricevuto un potere immenso dai cittadini, noi poco più di 900 parlamentari possiamo decidere della vita e della morte, in questi giorni stiamo dicendo sul fine di vita, stiamo votando sul fine di vita, della vita e della morte di tutti voi. Possiamo decidere cosa potete rispirare, quali inquinanti potete inarare, qualche cibo potete mangiare, quando andare in pensione, possiamo decidere anche quando noi possiamo andare in pensione, quando io posso andare in pensione, quanto prendo io di stipendio, mi posso autodeterminare i miei stipendi e posso decidere anche come farmi rieleggere. Allora provate a immaginare di applicare questo nella vita reale, provate a immaginare di avere un'azienda, avere dei soldi, avere un'attività e dover assumere qualcuno e darvi per 5 anni potete decidere tutto della vostra azienda, della vostra società, della vostra attività, cosa può fare, cosa non può fare, può decidere che stipendio darsi, quante ore lavorare e alla fine dei 5 anni può decidere come essere riassunto. Allora la domanda da chiedersi è in quanto tempo fallirebbe l'azienda. È chiaro che il sistema rappresentativo che si base su questo concetto oggi non è più sufficiente, per un semplice fatto, per un semplice principio che forse lo psicologo americano Scott Rogers definirebbe il principio dell'autoconservazione, il principio dell'autoconservazione, il principio per cui ogni essere umano, ogni comunità accetta di migliorare le proprie condizioni istintivamente. Se noi diamo un potere ai partiti, questo potere ai partiti naturalmente cercheranno di garantirsi quel potere, non di fare estintivo, non di fare nel tempo l'interesse dei cittadini. L'interesse dei cittadini è di metterli rappresentanti sempre migliori, da meritocrazia, ma la meritocrazia è rischiosa per chi la vive, perché ci sarà sempre qualcuno più competente di sé. Allora i partiti cercheranno invece, in contrasto con l'interesse dei cittadini, di garantirsi la poltrona. Il modo per garantirsi la poltrona è il modo di scambio, è compresso tutto. Ed è quello che sta succedendo in tutto l'Occidente, non è un problema solo italiano. Allora noi chiediamo una semplice evoluzione, introdurre sui strumenti, per permettere il controllo dei cittadini nell'attività dei loro rappresentanti. E' abbastanza banale come concetto. E quindi cosa sono questi strumenti? Cosa vuole dire? Vuole dire che i cittadini lavorano tutto il giorno, hanno da fare, non possono occuparsi quotidianamente della gestione della cosa pubblica, delegano qualcun altro. ma se questo qualcuno a cui pagano lo stipendio fa qualcosa contrario all'interesse collettivo o non fa qualcosa che l'interesse collettivo vuole, allora i cittadini possono fermarsi, iniziare a fare un'attività direttamente, proporre loro quella cosa, quel lato, quella delibera, quella legge. Pensiamo se avessero avuto, per un istante, se l'italiano avessero questo potere in questo momento. Avremmo già una legge sul conflitto di interesse. Probabilmente avremmo anche già una legge contro la povertà seria, un reddito di cittadinanza. Perché? E introdurre questi strumenti ha degli immediati effetti. Il primo effetto, la democrazia diretta non garantisce che le decisioni siano giuste. A parte che non garantisce nemmeno la democrazia rappresentativa, che lo vediamo tutti i giorni. Ma non garantisce che le decisioni siano giuste. Garantisce un'altra cosa più importante. Garantisce la responsabilizzazione dei cittadini. E' l'unico modo per crescere, per migliorare la nostra società. E' responsabilizzarsi. Quando vogliamo far crescere un figlio, non possiamo far crescere bene un figlio, se decidiamo noi per lui. Perché così garantiamo le decisioni giuste. L'unico modo per farlo crescere bene è dargli sempre più responsabilità. Permettegli anche di sbagliare. Ma se i cittadini sbagliano direttamente, allora non hanno armi. La volta dopo diranno, abbiamo sbagliato, poi dobbiamo cambiare. Ma se sbagliano i loro rappresentanti, continueranno a dare la polpa a un partito che troverà, a scannarsi tra di loro. E la responsabilità non sarà mai di nessuno. Secondo effetto molto importante. Le decisioni sono consapevoli. Non sono più il frutto del mal di pancia del momento. I giornalisti sottolineano spesso, come oggi la politica, si basi sul, diciamo così, il sentimento di pancia momentane. Cioè insegui gli istinti momentali, senza avere un'ottica lungimirante. Perché vuole alcun senso immediato. Quando noi parliamo di democrazia diretta, però la critica è, ma i cittadini decideranno in base agli istinti del momento e quindi decideranno non consapevolmente, ma cercando di ottenere un vantaggio immediato. Allora, c'è un corto circuito. In realtà la democrazia diretta, questi strumenti servono proprio per evitare tutto ciò. Perché essi sono degli strumenti che processualizzano la decisione. Se tu incanavi il metodo di condivisione di decisione, i diversi processi che hanno tempi lunghi, ma certi, e modalità di discussione che siano trasparenti e equilibrate, porterai delle decisioni equilibrate ai cittadini. Quando hanno tempo di ragionare sulle cose, ascoltano le varie parti, si informano, vengono educati attraverso tecnici, esperti, non solo opinioni politiche, tendono a prendere la decisione sempre più ragionabile e mai estremizzata. Quindi questo è proprio lo strumento per evitare quella deriva che voi definite costumista, che vediamo in tutta Europa. È una deriva che coinvolge tutte le nazioni e sta coinvolgendo tutte. Perché? Perché i cittadini che vedono che le istituzioni non li rappresentano più e stanno costruendo un futuro che loro non vogliono, preferiscono tornare indietro al passato, ecco i nazionalisti che stiamo venendo in giro per l'Europa, in giro per l'Occidente, piuttosto che andare avanti. Noi stiamo dicendo che c'è una certa strada, è quella che trova la soluzione ai problemi della democrazia non dentro le istituzioni, ma guardando fuori le istituzioni, restituendo un po' di potere al popolo che l'ha perso. La cosa meravigliosa di oggi è che c'è quasi un passaggio dai primi sindaci ai nuovi sindaci. Il primo sindaco del Movimento 5 Stelle è stato il sindaco di Sarego, un piccolo comune del nord-est Italia, piccolissimo, bellissimo, dove abbiamo un sindaco che adesso scade, è arrivato al punto anno, ha finito il suo mandato, se ne andrà da quell'istituzione, probabilmente si ricaviterà, non si sa se da l'arriere, ma lui se ne andrà avendo approvato gli strumenti di democrazia diretta. Quindi i cittadini, qualsiasi sia il prossimo sindaco, potranno intervenire sulle sue decisioni, magari approvandole, magari stimolando un dibattito su qualcosa che il partito, il futuro partito di maggioranza non vorrà discutere. E oggi c'è un passaggio dei testimoni, il nuovo sindaco, la nuova giunta, però della capitale d'Italia, farà la stessa cosa, introdurrà strumenti di democrazia diretta. E siccome il 12 aprile ricorda il primo anno della scomparsa di Gianroberto Casaleggio, io credo che questo sia il modo migliore per ricordarlo, per onorarlo, e voglio ricordare a tutti che il suo sogno era che il Movimento 5 Stelle entrasse in istituzione, applicasse la democrazia diretta e scomparisse. E questo è anche il mio sogno, è il sogno di Flavio Marzano, è il sogno di Angelo Sturni, è il sogno di tutto un movimento che spera di trovare la stessa forza e applicare la stessa energia quando andrà al governo nel 2018 per fare questa meravigliosa rivoluzione facinica.